Salve a tutti, oggi parliamo di una macchina specialissima, una macchina per l'estetica ed è formata da degli elementi di vetro che producono ossigeno nativo perché all'interno hanno praticamente un gas che produce un plasma che appoggiato alla nostra pelle produce delle microcorrenti che fanno vasodilatare i nostri capillari, insufflano ossigeno e quindi producono quello che è un beneficio totale della pelle. È una macchina semplice come vedete, è formata da tanti elettrodi, questo è un elettrodo che si può usare proprio per le guance, abbiamo altri elettrodi che si possono usare per i capelli, in modo da poter migliorare quella che sono tutta la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, togliere via eventuali batteri che ci sono alla base del pello del capello, eccetera. Quindi migliorare proprio la crescita del capello. Questa macchina qui praticamente produce ozono, cioè quindi ossigeno nativo, e questo effetto vuol dire praticamente togliere via, guarire eventuali acne, per esempio, pomfi, eccetera. Quindi l'altra interessante prerogativa di questa macchina è la possibilità, vedete, di agire direttamente con i vari strumenti. Per esempio possiamo togliere tutti quei bugnetti dovuti all'acne, in questo caso naturalmente useremo un elettrodo di questo tipo, eccetera. E per il discorso invece anti-age? Oh, anti-age esatto. Allora, noi possiamo avere due possibilità. O utilizziamo l'elettrodo a funghetto, quello che abbiamo visto prima, con l'abbinamento, diciamo, di una crema idratante, come potrebbe essere l'acido ialuronico, per esempio, o altre creme di buona qualità. Allora ecco che l'abbinamento della crema più la possibilità, diciamo, di usare questo strumento fa sì che fa penetrare la crema all'interno, diciamo, delle rughe. Quindi è un vero spianarughe, ecco. Quindi si tratta di uno strumento che possiamo aggiungere alla nostra beauty routine? Assolutamente sì, ma non solo, ma anche alla nostra igiene personale proprio, ecco, perché anche semplicemente, per esempio, anche solo un piccolo strumento come questo, per esempio, oltre che, diciamo, farci, diciamo così, curare il viso meglio, anche il corpo possiamo, perché semplicemente stringendo addirittura la macchina in questo modo, noi non facciamo altro che proprio aumentare il nostro, la nostra salute energetica del nostro corpo, ecco. Quindi non solo il viso, ma anche il corpo. E si tratta di uno strumento portatile che si può usare comodamente a casa? Si può usare a casa, si può usare a casa, si può usare in viaggio, si può usare dove si vuole, perché è una macchina semplice, come vedete, formata da un bel manico, e questo manico contiene dentro, attenzione, perché oggi c'è un nome che fa saltare tutti, dentro c'è un'antenna di Tesla, perché questa antenna di Tesla è quello che fa, praticamente fa aumentare il voltaggio, in modo tale da creare un plasma dentro a questo bel elettrodo di vetro, e naturalmente fa anche un ottimo effetto, devo dire, perché se lo usate in penombra vedrete queste belle colorazioni violacce che danno questa idea, diciamo, anche delle sue proprietà. Problematiche legate, problematiche della pelle, quindi pelle grassa, pelle combinata, pelle con l'acne, o anche pelle con venta di tono? Certo, allora la differenza naturalmente sta nel fatto di avere una pelle più o meno, diciamo, se una pelle secca ovviamente ha bisogno di sostanze idratanti, e quindi ecco che abbiamo bisogno dell'elettrodo e di, diciamo, creme assolutamente che siano conforme, diciamo, alla vostra fisiologia, ecco, al vostro stato di salute. Naturalmente cosa succede? Se voi avete una pelle un po' grassa, ecco che non dovete utilizzare nessuna crema, perché già l'effetto, diciamo, ossigeno, diciamo, sopra la pelle, ecco che vi fa, come dire, in qualche modo riequilibrare anche la pelle, in questo caso. Ecco, altri effetti, per esempio, se uno ha una dermatite atopica, per esempio, dove praticamente abbiamo una pelle piena, diciamo così, di dura, poco elastica, eccetera, eccetera, anche lì, ecco, con una crema un pochino, diciamo così, un po' grassa, eccetera, eccetera, con questa macchina potete, diciamo, spalmare bene bene, ecco che naturalmente la dermatite atopica si ristabilisce e rimane solo una piccola macchiolina rossa, dove era prima, diciamo, quella che era una specie di, come dire, di parte cheratinosa, ecco, diciamo, dura, che si spacca, diciamo, col tempo. Invece, con l'uso di questa macchina, quella parte lì viene via e rimane la pelle. Naturalmente ci rimane quella che era una specie di, come dire, di parte cheratinosa, ecco, diciamo, dura, che si spacca, diciamo, col tempo. Invece, con l'uso di questa macchina, quella parte lì viene via e rimane la pelle. Naturalmente ci rimane un pochino di alone rosso, ma è tipico, diciamo, di questa malattia, che è, e con questa la si controlla, ecco bene. Quindi un prezioso alleato per la bellezza e la salute della pelle, con che frequenza lei consiglia di risalto? Quando vuole, quando si vuole non ci sono dei limiti particolari, ecco, ovviamente bisogna stare attenti col tempo e con la potenza, perché qui vedete che, sentite, ecco, qui praticamente è un potenziometro che serve per l'accensione e per dare potenza. Naturalmente se state, se volete diminuire le palpebre, le palpebre, diciamo, dell'occhio, è evidente che non potete stare, le borse, scusate, se volete diminuire le borse, diciamo, dell'occhio, è evidente che, cioè, non potete starci dieci minuti, ecco, questo, quindi massimo due minuti con la potenza minima e usare una crema molto, diciamo così, lenitiva, tipo una crema alla calendula, una crema, diciamo, sicuramente che sia molto idratante, ecco, perché se no... Ah, di tutti i giorni? Sì, sì, l'importante è non superare quei due o tre minuti, ecco, non di più. Comunque c'è, annesso, noi diamo un manuale che è molto chiaro, dove praticamente si può andare a leggere proprio le tempistiche, l'uso, quale uso, diciamo così, quale strumento usare in quella circostanza. Ecco, una cosa interessante è che bisogna dividere un pochino quelle che sono fra, diciamo così, le persone giovanili e le persone, diciamo così, di età un pochino, diciamo così, un po' più alta. Ecco, allora, diciamo, nelle persone un pochino più attempate, allora lì si può utilizzare, per esempio, una garza oppure un fazzoletto, per esempio, per migliorare, per fare aumentare, per esempio, l'effetto vasodilatatorio, per fare aumentare l'effetto della produzione di ozono, per esempio, di ossigeno nativo. In questo caso, l'effetto subito, vedrete, che le guancette diventano rosa, come una ragazza di 18 anni. Quindi diciamo che RF Glass sostituisce i trattamenti estetici fatti... Assolutamente, sì, anzi, addirittura, certo, assolutamente, no, l'importante, anzi, potete anche consigliarvi con la vostra estetista per avere i prodotti migliori, per poter poi usare la vostra macchina a casa... Così se ne potenzia l'uso? Assolutamente, sì, assolutamente, ma assolutamente... Perfetto, grazie. Salve.